Proseguono senza fine le atrocità a cui è sottoposta la popolazione inerme di Aleppo, un tempo una delle città più belle della Siria, oggi covo di rovine e tomba di migliaia di persone innocenti. L'arcivescovo armeno cattolico della città martoriata, Monsignor Butros Maraiati, ha scritto a Monsignor Zuppi per ringraziarlo dell'offerta di 10.000 euro che gli ha consentito di ripristinare la Chiesa della Santissima Trinità perché i fedeli possano almeno riunirsi in preghiera. Le ostilità non cessano più, scrive il presule, al contrario la guerra civile prosegue con atrocità. Non ci rimane altro che pregare perché crediamo che la pace è possibile, come ha detto l'angelo a Maria, non c'è niente di impossibile per il Signore. Sono ad Aleppo vicino ai miei fedeli, scrive ancora Monsignor Maraiati, soprattutto in questi giorni in cui il freddo si fa sentire con la mancanza di mezzi di riscaldamento. Grande preoccupazione per gli anziani e un'attenzione speciale verso i bambini per aiutarli a vivere il mistero del Natale. Anche la redazione di 12 porte unisce la sua piccola voce a quella del Papa per chiedere un intervento umanitario in soccorso della popolazione e la cessazione di tutte le ostilità. Se in Italia il ricordo di una guerra cessata più di 70 anni fa è ancora oggi causa potenziale di divisioni, quanto tempo passerà perché il popolo siriano possa ritrovare la pace dopo questa mattanza?